Siamo qui convenuti per unire quest'uomo e questa donna nel sacro vincolo del matrimonio. Questa è la cosa più assurda che abbia mai fatto in vita mia. Voi siete dei veri matti. A proposito di matti, dov'è Mardock? Jacqueline Lee Taylor, vuoi tu prendere quest'uomo, Calvin Cutter, come tuo legittimo sposo? Non l'ho fatto mica per vedere come stavo in bianco. Addio, signora, bellissimo il suo vestito. Adesso, pie! Ragazzi, non ce la faccio! Forza, signora, farà tardi! Voi, fermatele al cancello, voi con me. È in arrivo sul primo binario, il rapido delle otto! Wow! Scusi, ma ho fretta! Wow! Forza, signora! Mi dia la sua mano! Sono già sposata! Iscriviti al canale.